Cultura, integrazione e inclusione con 13 voti, sport con 12, cura e bellezza del centro storico con 8. Si chiude così la votazione delle aree tematiche per il bilancio partecipativo 2021. I cittadini hanno avuto circa un mese di tempo per esprimere le proprie preferenze. Le operazioni di voto iniziate infatti il 30 novembre si sono concluse il 29 dicembre 2021. Il prossimo step sarà adesso quello della presentazione delle proposte progettuali. I dettagli sulle modalità e tempistiche dovrebbero essere comunicati attraverso apposito avviso pubblico, così come si specificava nel precedente avviso del Comune. L'importo totale destinato al bilancio partecipativo 2021 è di 40.000 euro. Ogni cittadino in forma singola associata potrà presentare una sola proposta progettuale. Sarà poi una commissione valutativa, composta dal segretario generale o un suo delegato, dal dirigente dei settori delle aree tematiche votate dai cittadini, dal dirigente della direzione dei lavori pubblici, a valutare i progetti per i quali esprimerà il parere di fattibilità secondo dei criteri quali chiarezza del progetto e degli obiettivi, coerenza con la re tematica, fattibilità tecnica e giuridica degli interventi, compatibilità rispetto agli atti già provati dal Comune, stima dei costi, stima dei tempi di realizzazione, compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. Verranno poi resi noti i progetti ammissibili, le modalità di votazione dei progetti, il termine entro il quale effettuare la votazione. E infine, dopo che i cittadini avranno espresso le proprie preferenze, verrà pubblicata la graduatoria dei progetti votati.